Ecco i nostri baldigiovani che proseguono la loro seduta di allenamento, sotto una pioggia incessante, temperatura rigida. Ecco il mister Gabriele che dirige gli esercizi, tutti i ragazzi si allenano tramite senso di professionalità e di edizione alla maglia, si sono coperti alla meglio con il Pigway, domani saranno consegnati kit a tutti i ragazzi, adesso portano dirise diverse, qui al Pigway che ancora no, ma ragazzi, se fate caso nessuno porta calce maghi, tutti con i pantaloncini abbiamo venuto per temprarsi e fortificare le gambe a tutte le temperature.